Bella a tutti ragazzi, Corgasmic sono qui con un nuovo squad builder, è una squadra che ho fatto su Futed e mi era piaciuta quindi ho voluto portarla sul mio canale è comunque una squadra silver longshot, quindi giocatori solo ed esclusivamente argento con un ottimo tiro dalla distanza e ne ho fatta una simile, diciamo, stessa caratteristica, cioè silver longshot un po' di tempo fa, poco tempo fa comunque ne voglio riproporre un'altra, mi è piaciuta abbastanza questa squadra, è bella da utilizzare andiamo subito nel dettaglio, 4, 3, 2, 1, non è il mio modulo preferito però è un modulo abbastanza buono con cui riesco a giocare abbastanza bene quindi è formata da tipo 4 campionati e forse, non mi ricordo bene, 6 nazionalità diverse comunque andiamo subito con il portiere, ho utilizzato questo qui del Tolosa, Achmada, non so come si pronunci è un buon portiere, è abbastanza alto, con ottimi valori comunque tranne in presa ecco la presa mi accorgo solo ora che è 64, però per 500 crediti è buono, non mi ha fatto grandi cazzate quindi lo reputo un buon portiere poi terzino di destra è un giocatore non raro, veramente fortissimo che vi consiglio cioè Van Rijn, il terzino destro dell'Ajax, o come dice Pardo, Van Rijn è fortissimo, è forte in tutte le statistiche, è velocissimo, fa dei recuperi pazzeschi in difesa anche un buon dribbling, è forte in difesa, è un buon fisico, è abbastanza alto, ha 4-6 piedi debole è davvero un buon giocatore che vi consiglio poi andiamo con il secondo giocatore della difesa, il difensore centrale di destra ci sono 3 giocatori non rari in difesa, tra l'altro se non erro il primo giocatore non raro è Re Kik, difensore centrale del Marsiglia ricordatevi bene, se no non fa intesa, penso Re Kik buono, potrebbe essere un po' più forte in difesa, ma si può capire un non raro ci potrebbe stare velocità abbastanza buona, 73, difesa come ho detto potrebbe essere migliore però è alto, è fisico, è un buon giocatore, ha anche 4-6 piedi debole tra l'altro io l'ho messo a destra anche se lui è un mancino però è un giocatore che non è facile trovare sul mercato ma con un po' di ricerca e un po' di pazienza si trova poi, difensore centrale di sinistra, un altro giocatore come vi ho detto non raro ed è, forse l'ho passato, no, è Moubanger, questo qui del Tolosa che in realtà lui è un esterno sinistro bronzo tra l'altro è stato upgradeato a Argento, difensore centrale cioè un cambio di ruolo impensabile ma devo dire che è veramente forte questo giocatore tra l'altro è uguale a Welbeck è veramente forte, è più veloce di quanto dimostri sulla carta 70, sembra molto di più, tipo 75 è molto più fisico di 76 ed sembra in game anche un po' più alto di 1,78 e in difesa davvero le prende tutte sia di testa che palla a terra, diciamo devo dire che per 500 credit mi ha sorpreso io di solito sono un po' scettico tra i giocatori che da bronzo vengono upgradeati a oro invece devo dire che questo giocatore è veramente formidabile poi terzino sinistro invece è l'unico giocatore raro della squadra cioè della difesa cioè Telles del Galatasaray ottimo terzino con una buona velocità un ottimo dribbling e comunque il resto delle statistiche madonna non riesco a parlare sono molto buone quindi vi consiglio anche Telles poi andiamo col centrocampo che è la parte più longshotosa tranne il centrocampista di destra si tratta di dovrebbe essere da qualche parte penso qui in giro da qualche parte Viergever questo qui dell'Ajax che fa la tripla intesa con Van Rijn forte come difensore mi è piaciuto molto cosa ho fatto? non lo so ok come difensore mi è piaciuto molto mi ha sorpreso quel 63 di passaggio che sembra molto di più infatti mi ha fatto 5 assist qualcosa di impensabile costa poco ma comunque è un buon schermo davanti alla difesa comunque come vedete è un buon assist poi il giocatore che mi ha deluso più di tutti è il centrocampista centrale di centrocampista centrale che è adesso voglio vedere se riesco a trovarlo eccolo qui Frey che c'è la versione anche del Basilea ma voi dovete usare quella del Mainz probabilmente perché è stato utilizzato al centro era poco disponibile diciamo per fare si smarcava poco per fare i long shot però quando tirava veramente di tiri spettacolari faceva mi ha preso tipo un paio di traverse poverino però devo dire che è forte non ha un gran dribbling però nel resto delle statistiche è veramente forte purtroppo questo Warcrete che è un po' da difensore diciamo da CDC che un po' lo penalizza visto che lui comunque deve fare i tiri dalla distanza e essendo sempre un po' schiacciati difese non avendo un'eccellente velocità fa un po' fatica ovviamente ma il giocatore più forte del centro campo è senza dubbio questo qui a sinistra cioè Blair Inzemaili un mostro è forte in difesa perché recupera i palloni ha un discreto dribbling ha una buona fisicità ha un ottimo passaggio da cui derivano 5 assist un tiro veramente spettacolare 64 è solo derivante solo dalla sua poca finalizzazione lui diciamo che su 10 long shot che ti fa ne fa 2 perché ha poca finalizzazione però sono veramente pericolosissimi cioè non va più lontano di 30 cm dai pali mi avrà preso almeno 4-5 pali o traverse e comunque mi ha fatto diversi gol soprattutto decisivi davvero un giocatore formidabile che se avesse un po' più di velocità sarebbe devastante e un po' più di finalizzazione chiaramente poi andiamo con l'attacco troviamo come ATD Byster davvero forte anzi direi fortissimo tra l'altro le partite giocate non sono state 5 bensì 3 o 4 non mi ricordo perché ci sono stati dei quit davvero clamorosi come uno al secondo minuto vi giuro dopo che ha segnato Byster Byster fortissimo quando rientra sul sinistro fa dei tiri spettacolari ha un ottimo tiro ha un'ottima velocità un ottimo dribbling peccato che non ha 4 se le abilità ma se ce le avesse avute sarebbe stato devastante fisico eccezionale ottimo work rate è anche un buon passaggio è davvero un giocatore fenomenale che costa relativamente poco poi l'ATS è il giocatore che mi ha deluso più di tutti cioè Clemence o Clemence no Clemence non è francese è questo giocatore del Mainz che ha un buon tiro davvero un bel tiro anche lui quando rientra sul destro ha anche un discreto passaggio però in 3-4 partite mi ha fatto relativamente poco ha sfiorato il gol diverse volte devo dire la verità però mi ha fatto un solo gol l'unica cosa che devo dire di questo giocatore è che 85 di velocità è un po' una menzogna perché in game dimostra molto meno infatti è abbastanza manchinoso e lento come giocatore e questo un po' mi ha sorpreso andiamo con l'ultimo giocatore di questa squadra cioè l'attaccante è un giocatore veramente spettacolare che adesso ovviamente cercherò qui Kadlec del Francoforte dovrebbe essere sì veramente un giocatore mostruoso in 3-4 partite che mi ha fatto mi ha fatto appunto i 4 gol che vedete più gli assist penso tutti e 3 è un giocatore fortissimo che è sempre nella posizione giusta che ha anche un buon fisico 57 non so perché è 57 però devo dire che di fisico non è male velocissimo con un tiro quasi infallibile un'ottima finalizzazione rendono questo giocatore davvero formidabile molto economico e con un workout davvero perfetto comunque raga la squadra è questa è una squadra che diciamo non mi sono concentrato molto su fare tanti gol ma provare i long shot dalla distanza perché è la cosa più divertente e ovviamente più utile di questa squadra come sempre vi invito a lasciare un bel like se questa squadra vi è piaciuta 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se la proverete se l'avete provata e consigliatemi altre squadre da portarvi nei prossimi video iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate in descrizione ci vediamo al prossimo video vi lascio le clip bella raga ciao ciao